Buongiorno a tutti, benvenuti a Casa Siae Sanremo 2023. Io sono Davide Pogliani di Rockall e vi do il benvenuto al Talk Siae e YouTube Presente e Futuro della Creatività Digitale. Ne parliamo con Nicola Miliardi, CEO Musica Siae. Buongiorno Nicola, grazie. Ciao a tutti, ciao Davide. E con Chiara Santoro, responsabile delle relazioni con le etichette di YouTube per Europa, Medio Oriente e Africa. Buongiorno Chiara, grazie di essere qua con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Benissimo, allora, i DSP, lo sappiamo, ce lo dicono i numeri, sono la principale fonte di monetizzazione oggi, quando si parla di creatività digitale, soprattutto per gli artisti più giovani. Ora, YouTube occupa una posizione, ne parlavamo proprio poco fa, una posizione particolare che sta a metà strada tra il DSP tradizionale e il social network, che sta diventando sempre più importante, per ragioni di interazione così, a livello anche di monetizzazione. Chiara, Nicola, ci date uno sguardo da insider su questa particolare posizione? Volentieri. Come YouTube, diciamo che il nostro obiettivo già da diversi anni è quello fondamentalmente di riuscire a creare l'ambiente migliore da una parte per gli artisti e dall'altra per i fan. E proprio per questo, sostanzialmente, stiamo cercando anche di implementare diverse soluzioni e diversi tipi di prodotti che poi si trasformano in un'esperienza che per appunto i fan di musica può diventare veramente molto ricca. Infatti, appunto, da utenti di YouTube, come immagino voi tutti sapete, gli artisti, insomma, potete guardare i music video degli artisti, però magari vedere anche i documentari degli artisti stessi o c'è una parte adesso sempre più anche importante legata proprio all'aspetto social, quindi da shorts, ma anche i post, diverse cose. La sostanza di tutto questo per noi è davvero cercare di pensare in che modo possiamo fare sì che questo ecosistema possa arricchirsi, possa dare maggiore possibilità di espressione agli artisti e questo è proprio il modo in cui la piattaforma si sta evolvendo e continua a evolversi nel corso del tempo, per cui aggiungiamo nuove funzionalità e parallelamente questo si trasforma anche in nuove opportunità di monetizzazione e anche nuove opportunità di collaborazione con gli aventi diritto. E Nicola, è qua, entri in gioco tu. O meglio, diciamo YouTube, lo conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni, è un leader di mercato, ma la domanda è di quale mercato? Cioè se vogliamo guardare una fotografia a quelli che sono i DSP che citavi te e Davide, no? I digital service provider, le piattaforme online, prima c'era una categorizzazione, una divisione tra le piattaforme di VOD, di video on demand, quindi facciamo un nome, Netflix, e le piattaforme di puro streaming musicale come Spotify. Poi oggi c'è una terza area nella quale non può essere categorizzata YouTube, perché YouTube offre un'esperienza un po' più a 360 gradi, poi magari ne parleremo insieme, Chiara, nella quale ovviamente puoi fruire di tutta una serie di contenuti, di cosiddetti long form, che sono il form più tradizionale con il quale è nato YouTube. Adesso da un po' di tempo ovviamente fruiamo di contenuti che sono gli short videos, puoi usufruire di pura musica, puoi usufruire di contenuti di general entertainment. Perché cito tutti questi elementi? Perché poi, se avremo occasione nel resto del dibattito, spiegheremo quali sono le differenze tra contenuti prettamente musicali su una piattaforma come YouTube e contenuti di general entertainment. Ricordiamo che YouTube poi, come molti altri player, è un player di un ecosistema molto più ampio, YouTube, ma anche Amazon, ma anche Apple, mentre ci sono altri player, come ad esempio Spotify, che sono dei player che hanno come connotazione solo quello specifico business. Ma la cosa più importante che dovremmo forse approfondire è proprio l'offerta a 360 gradi che come esperienza offre YouTube. YouTube poi, a differenza di tante altre piattaforme, è una piattaforma di user generated content, ossia è lo stesso utente che crea il contenuto, è lo stesso utente che uploada il contenuto, è lo stesso utente che usufruisce del contenuto e lo stesso utente monetizza poi parte delle royalties e delle revenues che sono generate dalla piattaforma. Quindi quasi come se fosse un'economia circolare. Quindi diciamo che YouTube è un po' un gigante che è difficile incasellare in un unico mercato o in un unico prodotto. Esatto, perché ci sono tanti modi di monetizzare. Infatti si parla di creator economy, monetizza il video ufficiale della canzone, monetizza il cittadino comune che carica, ploda un video delle vacanze con in sottofondo una musica coperta da diritto d'autore. Ecco, in questo caso, quali sono le vie di monetizzazioni emergenti sotto questo punto di vista, sulla piattaforma YouTube chiaramente? Allora, innanzitutto, giusto anche per fare un po' un chiarimento rispetto al caso dell'utente, diciamo qualsiasi, che carica un video con musica coperta da diritti, in realtà tendenzialmente carica, cioè, scusatemi, monetizza chi ha i diritti. Certo, sì. Perché è proprio, noi abbiamo un sistema di tecnologia proprietaria che si chiama Content ID, che è come un enorme scanner che verifica la presenza appunto di porzioni di contenuto originale sui contenuti degli utenti e pensate che addirittura circa un 30% delle revenue che distribuiamo all'industria musicale arriva dall'utilizzo proprio di Content ID, di user generated content. Però, per un altro punto, contenuto ufficiale, quindi artisti o case discografiche, monetizzano e, diciamo, ci sono due modelli qualità di monetizzazione, nel senso che da una parte c'è quello che tutti conosciamo da YouTube storicamente, quindi la parte di advertising, il classico pre-roll che passa prima magari di un video, che è forse l'esperienza più comune, parlando anche a chi è in questa sala con noi. E quindi, appunto, una parte di quelle revenue arriva direttamente all'utente, scusate, ai detentori dei diritti. Dall'altra parte, nel 2018 abbiamo lanciato in Italia e in tantissimi altri paesi anche le subscription, quindi c'è anche una parte, appunto, del nostro business in abbonamento che è in forte crescita a livello mondiale e questo è stato un modo anche per creare un'ulteriore forma di revenue per gli eventi diritto con cui collaboriamo. C'è anche una terza area, in qualche modo, che se volete è un po' più magari difficile da identificare, quella che noi chiamiamo la monetizzazione alternativa, nel senso che sappiamo benissimo che creator, artisti, case discografiche utilizzano molto YouTube come piattaforma promozionale e poi riescono a ridiriggere magari il loro traffico per vendere, non so, biglietti di concerti, cose di questo genere. Sappiamo che questo ha anche un valore importante per loro. Quindi, insomma, sono diverse aree, effettivamente, di monetizzazione. E dal punto di vista degli eventi diritto, Nicola? Sì, allora, è un po' anche l'elemento che ho citato prima velocemente. Allora, la prima distinzione, se parliamo di contenuti musicali, quindi di royalties legate all'utilizzo di contenuti musicali, bisogna fare una netta distinzione tra quelli che sulla piattaforma YouTube sono dei contenuti etichettati come musica o come general entertainment. Faccio degli esempi. Uno è un videoclip di Vasco Rossi, un altro è un tutorial di cucina, di come si cucina una carbonara ma con sotto una background music, con sottofondo di musica. In realtà, la regola tecnica è quella di definire come contenuto musicale tutti quei video che sono coperti almeno per il 90% della durata del video da musica. Quindi non si fa discernere della qualità della musica, di come è prodotta, di come è sincronizzata e abbinata al video, ma della copertura di musica a livello quantitativo rispetto alla durata del video. Perché bisogna fare questa specificazione? diversificazione perché il livello di monetizzazione o meglio il guadagno a parità di durata, cioè di un minuto, di un video, è completamente differente tra un video che è stato etichettato come musica e un video che è stato etichettato come general entertainment. Quindi per chi è il creatore di una musica è importante essere cosciente di questa cosa. La mia musica è utilizzata in un video che è etichettato come pura musica o come general entertainment. Quindi questa è una delle prime chiavi sulle quali bisogna ragionare. Una seconda, non so se sto anticipando poi delle domande che volevi fare Davide, è nel format tra short forms e long forms. Come diceva prima Chiara, nei long form, cioè nel prodotto che più o meno tutti conosciamo più tradizionale di YouTube, c'è una pubblicità che è legata al singolo contenuto video. C'è un pre-roll o un mid-roll, tecnicamente, c'è una pubblicità a inizio del video o durante il video che può essere schippabile o meno e che dà la possibilità di monetizzare, quindi di creare revenue sul singolo contenuto. Per gli short forms invece questa possibilità non c'è perché il video è talmente corto, stiamo parlando di 15, 30, 45 secondi, per cui non si può legare una pubblicità a ogni singolo contenuto. Sapete anche voi con gli short forms qual è il modello? Scrollo, 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 tre video, pubblicità, scrollo, scrollo, pubblicità, quindi si trasforma tutta sostanzialmente in una cosiddetta indirect revenue, cioè delle revenue che non sono univocamente riconducibili e legate a ogni singolo contenuto. E quindi poi magari lo racconteremo dopo, i modelli di monetizzazione della musica e il modello proprio di business tecnico, di creazione delle revenues, diventa completamente differente con gli short forms rispetto ai long forms. Poi, tra l'altro, prima Chiara accennava una cosa importante, che YouTube ha due modelli, quello free e quello ad abbonamento. Quanto incide questo sulle dinamiche di monetizzazione? In che modo? E soprattutto il free resta un argine alla pirateria, perché noi la pirateria ce la siamo dimenticata con il download. Però c'è ancora, è uscito qualche giorno fa un report inglese dove dice c'è una recrudescenza, seppur breve, ma c'è. Quindi come, esatto, questo doppio motore, questo doppio modello, come funziona? Sì, per noi diciamo che l'idea, come raccontavo prima, è proprio anche di aggiungere diverse fonti di revenue, in qualche modo di diversificare. Credo che ci sia anche un tema importante dal punto di vista di come guardiamo agli utenti, proprio rispetto anche al tema della monetizzazione. Per chi di noi è nel settore ed è appassionato di musica, magari è difficile pensare che ci siano in realtà tante persone che magari sono più utenti, se vogliamo, sono più utenti casuali di musica, che magari non sono così appassionati come noi. Per noi a volte nell'industria musicale è quasi difficile, ma la verità è che tantissime persone magari non hanno lo stesso grado di interesse, lo stesso grado di interazione dei grandi appassionati e sicuramente la parte supportata da advertising riesce a monetizzare questi, tra virgolette, fan casuali, magari persone che appunto non sono super appassionate di musica, però gli capita di vedere la musica, magari la scoprono su YouTube andando a vedere il video di Cucina che citava prima Nicola, gli arriva un video suggerito del brano di quell'artista e lo vanno a guardare, quindi scoprono più musica di quanta ne cerchino. E l'advertising, il sistema, il modello dell'advertising ha proprio l'obiettivo anche di aiutare a monetizzare questo tipo di utenti. Sulla tua domanda rispetto sul tema della pirateria, una cosa importante che volevo dire che per noi non è mai stato, per noi a YouTube il tema legato alla protezione del copyright e in generale dalla protezione diciamo dell'ecosistema, non è mai stato un tema oggi c'è, domani vediamo, per noi è una cosa infrastrutturale e non uso questa parola a caso, ma la uso proprio perché è parte dell'infrastruttura proprio tecnologica di YouTube, quindi appunto un sistema come quello di Content ID e tutti i sistemi che abbiamo per la protezione del copyright sono lì da sempre, cioè da sempre da quando c'è YouTube quasi e continua a esserci un investimento costante per andare incontro anche a nuove tipologie di appunto bad actors che si possono sviluppare nel mercato perché chiaramente la tecnologia avanza per tutti e quindi bisogna fare sì che la tecnologia di protezione del contenuto e di salvaguardia appunto dell'ecosistema sia sempre assolutamente aggiornata. Quindi Nicola siamo pronti per il superamento della dicotomia tra pay e free? Ma sì, nel senso che secondo me già si è superata questa dicotomia. Allora, dai numeri che noi oggi vediamo per quello che noi poi come si ha e paghiamo a tutti gli artisti e a tutti gli editori la componente di advertising è ancora la stragrande maggioranza del valore che viene gestito come royalties musicali. La subscription è in forte crescita stiamo parlando ovviamente del caso specifico di YouTube perché poi per altre piattaforme e per altri mondi potrebbe essere differente ad esempio per Apple Music praticamente il free non esiste o Spotify può avere situazioni differenti ma smarcandoci da qualsiasi confronto è chiaro che YouTube allora mi faccio anche una domanda da solo perché qua si ha e YouTube insieme perché la collaborazione che stiamo mettendo in atto è quantomeno almeno su due aree importanti allora uno sulla monetizzazione YouTube è una delle piattaforme che da un punto di vista di advertising è la più brava a generare revenues dalla pubblicità quindi mondo free su free YouTube è una delle piattaforme digitali più bravi al mondo il mestiere che facciamo in collaborazione con YouTube è noi per il nostro cercare di trasferire la quota ma più grande possibile di questo valore a chi crea musica quindi questa è un po' la sostanza della parte di YouTube sulla monetizzazione dell'advertising e del free per quanto riguarda la parte di fake stream e in generale anche poi di pirateria questa è un'altra area di collaborazione nel senso che sicuramente YouTube è una delle piattaforme più strutturate per combattere questo sicuramente i fake stream è un tema caldo sono usciti pure tutta una serie di report internazionali proprio nelle ultime settimane negli ultimi mesi noi come si ha e monitoriamo tutti i consumi di musica e quindi abbiamo degli intervalli di confidenza dei canali entro i quali noi ogni singola canzone ci aspettiamo che cada in termini di visualizzazioni di stream e di consumi è chiaro che se dovesse avere degli outlier quindi dei valori fuori della norma noi collaboriamo con le piattaforme per comunicargli subito questi valori anomali che non è detto che siano automaticamente un fake stream però abbiamo un nostro modello di detection e di identificazione di quelle che sono andamenti anomali e quindi è una sorta di ulteriore collaborazione perché sicuramente è uno dei temi caldi poi legato a quello di cui parlavamo ieri parlavano altri colleghi nei precedenti parler dell'intelligenza artificiale quindi della eccessiva offerta di contenuti musicali rispetto alla domanda e quindi nel futuro sarà ancora più attuale il tema dei fake stream su contenuti che poi potrebbero essere anche enormemente più grandi rispetto a quella che è l'esigenza di fruizione da parte di un utente tornando alle potenzialità della creatività digitale abbiamo citato prima short form video che è il formato emergente ecco quali sono le potenzialità e diciamo come sfruttarle al meglio perché lo short form è importante per la viralizzazione ma non è sempre detto che la viralizzazione di per sé sia positiva nel senso qual è la la potenzialità di questo formato che i musicisti più giovani hanno capito e adesso stanno capendo anche i musicisti meno giovani secondo voi inizio io per cavalleria ti lascio sempre la parola vi posso raccontare un po' come vediamo short form all'interno diciamo del nostro ecosistema l'idea è quella di dare appunto la possibilità di creare più mezzi possibili per scoprire la musica per i fan e anche per l'espressione degli artisti e quindi vediamo in realtà noi non vediamo short come una funzionalità diciamo che sta lì da sola non è una cosa stand alone la nostra idea è creare appunto un ecosistema all'interno del quale ad esempio un utente possa scoprire della musica partendo da uno short e poi andare a vedere il music video e poi magari iscriversi al canale scoprire molto di più quindi stiamo in realtà lavorando tantissimo per creare questi passaggi quindi per noi short vuole essere da una parte un po' un funnel su questa parte di discovery e dall'altra un mezzo di partecipazione creativa quindi sono tutte cose su cui stiamo veramente lavorando in questo momento e pensando proprio al lato artistico quello che noi più che il tema della viralizzazione per noi è proprio il tema dell'espressione a noi piace tanto quando parliamo con gli artisti quando parliamo con le label pensare ok qual è il progetto qual è la storia che vuoi raccontare e cercare di in qualche modo dare tutte le possibilità possibilità espressive short è un ottimo sistema ad esempio per tenere attivi i canali di youtube quando magari c'è un momento un po' off cycle oppure si sta oppure per creare teasing su un nuovo video però abbiamo visto ci sono tantissimi casi anche molto interessanti per cui è un modo anche molto bello per raccontare un po' anche la vita di tutti i giorni se vogliamo degli artisti o anche quello che succede dietro le quinte o anche per raccontare il lavoro degli artisti negli studio negli studi eccetera quindi al di là appunto dell'aspetto prevalentemente virale è proprio una modalità espressiva e poi certo si possono fare anche delle bellissime campagne ne sono state ne sono successe diverse anche molto divertenti come quella con Taylor Swift in tempi recenti in cui si possono coinvolgere i fan a utilizzare lo stesso brano musicale creando una serie di di attività supporto nel caso di Taylor Swift la sfida era mostrate il vostro lato anti-eroico e quindi si è sviluppata questa cosa sulla community ed è stata molto bella anche per il significato davvero che ha portato poi c'è anche un aspetto di discovery nel short form importante ma io dal nostro punto di vista sugli short forms io la sintetizzerei in tre punti primo sicuramente è un nuovo canale di promozione un nuovo formato per promuovere la musica anche per artisti affermati e per raggiungere forse un target che può essere anche differente rispetto a quello dei long forms e quindi di promozione il secondo era quello che forse citavo anche prima Chiara di scouting quindi ci sono alcuni artisti emergenti che si sono fatti conoscere hanno avuto visibilità grazie proprio al format dello short forms e il terzo punto è a prescindere da promozione scouting e quant'altro è una nuova fonte di monetizzazione per chiunque crea musica e quindi viene utilizzata in questo nuovo tipo di prodotto poi il problema è se uno lo va a guardare e lo short forms è un prodotto abbastanza giovane abbastanza recente gli short forms stanno diventando sempre un po' più lunghi e i long forms stanno diventando sempre un po' più corti quindi bisognerà arrivare a un punto nel quale capire dove ci si ferma con un long forms e dove inizia invece lo short perché prima gli short forms parlavamo di 15 secondi poi 30 poi 45 poi adesso si è arrivati forse a definire uno short forms fino a un minuto e mezzo i long forms ormai sono sempre più corti e quindi c'è una linea di demarcazione che più si andrà avanti più sarà labile e sarà difficile da identificare secondo me la linea di demarcazione sarà sempre quella tecnica di prima un long forms è un formato è un prodotto nel quale puoi inserire della pubblicità direttamente legata a quel singolo contenuto mentre gli short forms al seconda della durata che sia di 30 secondi un minuto un minuto e mezzo hanno una durata comunque talmente ridotta nella quale non può inserire un mid roll o un pre roll legato a ogni singolo contenuto quindi al di là della lunghezza e quindi l'altra cosa interessante che abbiamo visto come si ha nell'elaborare i dati insieme a youtube è le classifiche ne parlavamo forse anche in altre panel in altre occasioni cioè le classifiche sono completamente upside down sono completamente ribaltate in questo caso permettimi un paragone delle prime 100 delle prime 100 e delle prime 100 top opere su spotify solamente 20 le ritroviamo anche nelle prime 100 degli short forms di youtube o di altre piattaforme quindi solamente 20 delle prime 100 di un formato di streaming musicale o di long form le troviamo negli shorts questo che cosa vuol dire che ci sono degli utilizzi completamente differenti c'è un'opportunità per tanti soggetti di farsi conoscere perché c'è uno spazio nuovo e ovviamente ci sono anche delle motivazioni alla base degli short forms devi avere un formato anche musicale che abbia o un jingle accattivante o un ritornello iconico deve essere un formato che comunque anche da un punto di vista musicale un prodotto musicale che vada bene per un formato breve però nelle classifiche c'è un enorme spazio anche per per chi vuole ovviamente magari entrare in classifica con prodotti differenti c'è un discorso che lo short form mette meno risalto l'interprete forse lascia anche più spazio all'autore in funzione di discovery essendoci appunto il fan che fa il balletto e questo può essere anche molto interessante cioè riportare davanti l'autore che è sempre stato invece messo messo dietro youtube oltretutto ha anche la funzione che sotto ogni video sotto ogni canzone segnala l'autore oltre che l'interprete questa c'è una funzione didattica forse c'è una chiave didattica anche di questa appunto di questa collaborazione sia per il pubblico che per gli artisti ecco è su due fronti assolutamente assolutamente sì a me piace sempre in tantissime occasioni mi è capitato parlando magari con artisti o anche con autori o con chi lavora appunto in questo settore o produttori e tutto la prima cosa che mi hanno detto quando dicevo che lavoravo a youtube era quante cose che ho imparato su youtube ho imparato a suonare questo strumento mi ha ispirato tantissimo quando abbiamo fatto questo video abbiamo ci è venuto in mente quel video che abbiamo visto insomma c'è un aspetto di apprendimento che secondo me è molto interessante secondo me è bello che venga ribaltato in qualche modo nel senso che come dicevi tu Davide la figura dell'autore che è una figura centrale una figura così importante rimane un po' misteriosa per chi non è tra gli addetti ai lavori sarebbe molto bello secondo me che tanti tanti giovani anche che sono appassionati di musica riuscissero anche a scoprire qualcosa di più di questo appunto di questo bellissimo questa bellissima professione quindi in questo senso youtube potrebbe essere veramente molto utile per raccontare che cosa fanno gli autori per appunto dare un po' un po' più di visibilità e ci sono dei modi anche molto semplici se vogliamo per farlo anche semplicemente con facendo una playlist questi sono i brani che ho scritto oppure raccontando questo brano l'ho scritto pensando a questo questo e questo insomma dico magari forse delle banalità però per tanti che non sono nel settore in realtà sono veramente delle informazioni utilissime possono aprire tantissima ispirazione possono avvicinare tantissimi giovani anche alla voglia di scrivere musica che penso sia bellissimo o produrre anche diciamo perché come si diceva ieri la figura del produttore ultimamente si sta sempre più confondendo con l'autore Nicola sì i produttori i producer stanno sempre più scalando le classifiche almeno dal nostro punto di vista che guardiamo per noi ovviamente è centrale chi crea la musica e quindi andiamo oltre quello che diceva Chiara solo il puro frontman o anche solo l'interprete quindi i producer vediamo sempre di più e soprattutto nel mondo dell'online e delle royalties musicali online che stanno scalando le classifiche e dovremo vedere nel futuro perché comunque è un prodotto abbastanza giovane quello degli shorts se poi ci saranno dei produttori o dei producer che si specializzeranno nel produrre un certo tipo di musica dedicata proprio a questi format una delle differenze che possiamo dire anche da un punto di vista tecnico di metadati sui contenuti tra long forms e short forms è che negli short forms si ha il vantaggio che spesso si utilizzano delle library precostituite da parte della piattaforma e quindi i metadati che si utilizzano per creare uno shorts e per utilizzare la musica sono dei metadati e delle informazioni delle canzioni che sono perfette abbastanza perfette rispetto a tutti i metadati che comunque espone YouTube anche sui long forms ma che sono metadati che in alcuni casi viene richiesto che vengano forniti dall'utente stesso quindi sugli short forms anche da un punto di vista tecnico e anche da un punto di vista di tra virgolette tutela dell'autore o del produttore della canzone ci sono tutta una serie di informazioni per chi ha detto i lavori gli SRC tutta una serie di informazioni legate proprio alla canzone e all'opera musicale che aiutano molto di più nel lavoro di chi come noi deve andare a identificare le singole canzoni e andare a prendere ogni singolo centesimo per pagarlo agli autori ai compositori delle canzoni quindi esatto un ecosistema abbiamo parlato fin dall'inizio di un ecosistema una collaborazione più certa facilita anche questo appunto la se ne trae un beneficio in quanto tempo cioè è un beneficio che si è tangibile per il creator è tangibile lo si riconosce che è più come dire la remunerazione la monetizzazione più agile più snello giusto chiaramente lavorando nel modo più allineato possibile con tutti i metadata e tutto questo cioè questo facilita chiaramente il lavoro di tutti quindi è fondamentale dal punto di vista o scusami no è un'altra cosa che secondo me vale la pena ricordare in un paragone tra long forms e short forms e anche a livello di discorso di monetizzazione di royalties che vengono riconosciute da parte di youtube e della piattaforma a tutti gli stakeholders è per me che sono il creatore di un contenuto sugli short forms se utilizzo musica o se non la utilizzo se utilizzo musica copyright free o con copyright la mia monetizzazione non cambia mentre c'è stato ovviamente tutto un fenomeno per il quale molti youtuber potevano ipotizzare ma la mia monetizzazione viene messa in discussione o viene ridotta per il fatto che io nei miei video soprattutto di general entertainment utilizzo musica con copyright cioè la torta la devo spartire anche con gli autori e i compositori delle musiche sugli short forms questo non avviene perché non viene comunque ovviamente minata la monetizzazione per chi crea il contenuto rimane invariante a seconda che utilizzi musica o meno con copyright quindi questo porta a sanare un problema che è quello sul general entertainment anche di utilizzare delle library copyright free soprattutto per i contenuti generici poi il videoclip di Vasco Rossio il videoclip di ultimo di qualsiasi altro artista è sempre un video coperto da copyright ma quello è un contenuto abbiamo detto musicale per tutti gli altri c'era stato un fenomeno per il quale gli youtuber stessi avevano un incentivo a non utilizzare musica con copyright per non dover spartire la monetizzazione con autori e compositori quindi anche i prodotti i nuovi prodotti trovano delle soluzioni a dei fenomeni che potevano diventare un po' problematici quindi è un'opportunità che ha creato youtube e come possono essere sfruttate al meglio cioè ci sono dei consigli che si possono dare comunque ai creator per sfruttare al meglio queste opportunità ad esempio Nicola ha detto adesso una cosa importante non c'è più il problema di usare production music per ci sono altre dritte che si possono dare comunque a chi ci guarda ai creator che ci guardano sicuramente il mio consiglio per tutti gli autori è quello di avere una presenza su youtube io penso che questo sia veramente molto importante perché molto spesso uno pensa no ma perché dovrei avere una presenza su youtube ma invece bisogna averla anche da autori anzi a maggior ragione per raccontare il lavoro che si fa perché questo è molto utile ci sono dei bellissimi esempi ad esempio anche playlist che tanti autori fanno all'interno dei propri canali youtube in cui fanno appunto raccolgono curano il contenuto di tutti i brani che ad esempio hanno scritto nel corso degli anni e sono dei contenuti anche che si possono arricchire ci sono diversi autori anche che magari raccontano un po' di più proprio dei brani che hanno scritto facendo quasi dei piccoli vlog dei piccoli documentari o facendo magari degli shorts mentre scrivono quindi ci sono veramente tante possibilità abbiamo una risorsa tra l'altro online che è anche localizzata tutto in italiano su youtube for artists con una parte dedicata proprio ai songwriter con moltissimi moltissimi di questi di questi consigli e effettivamente ci sono un sacco di esempi di esempi interessanti per cui senz'altro curare il contenuto ma anche creare contenuto e utilizzare tutte quelle che possono essere le funzionalità della piattaforma è una cosa che davvero tutti possono fare e può dare veramente un grande valore alla musica che si crea e può raccontare tanto a tantissime persone in tutto il mondo quindi davvero un invito qualche dritta ma mi viene in mente un'altra indicazione precauzioni per l'uso o indicazioni per l'uso tra un'altra differenza tra long forms e short forms negli short forms si guadagna in base al numero di contenuti video nei quali viene sincronizzata la musica cioè se io dovessi scegliere per se voglio guadagnare di più se volessi scegliere un video visualizzato da mille persone o mille video visualizzati tutti da una persona è meglio la seconda opzione cioè bisogna creare un contenuto che diventi virale che venga utilizzato da quanti più utenti e terzi soggetti possibili mentre nei long forms quello che conta sono le views a prescindere che vengano effettuate con uno due tre o quattro contenuti poi alla fine il totale fa la somma sugli short forms uno vale uno quindi la cosa più importante è che il contenuto anche musicale diventi virale che venga sincronizzato utilizzato da più terzi soggetti possibili da un punto di vista di monetizzazione la promozione del proprio contenuto è un altro discorso quindi io posso poi creare uno short forms che venga visto anche da un milione di persone per promuovere il mio contenuto ma là non mi dovrò aspettare una cifra di royalties di guadagni incredibili i guadagni arrivano sugli short forms quando il contenuto viene ovviamente veicolato nella piattaforma di paese in paese tra i vari utilizzatori perfetto grazie Nicola ci sono creator in sala che vogliono fare domanda approfittare dell'occasione no non abbiamo creator la domanda certo c'era il tema di metadata che dicevamo prima che è fondamentale quindi tutto ciò che aiuta ad avere metadata completi in ordine eccetera aiuta aiuta tutto infatti mi hai anticipato perché la domanda finale era questa qual è la sfida a breve termine da un punto di vista tecnologico per rendere questo ecosistema ancora più coeso ancora più compatto di qui a due anni che due anni sono già quasi medio lungo con i tempi che corrono però diciamo medio breve via credo che che la sfida soprattutto sia quella di riuscire per noi sempre di più a collegare tutti questi elementi che è quello su cui appunto stiamo lavorando cioè facendo in modo che appunto da short form gli utenti riescano a scoprire nuova musica e a appunto godersi long form e insomma creare sempre di più un circuito tra tutti questi diversi formati in un modo fluido e molto semplice sia per per i fan di musica ma anche effettivamente per gli artisti e poi anche ovviamente la cosa che ci interessa tantissimo è non solo fare in modo che da un punto di vista se vogliamo creativo di prodotto di esperienza tutto questo funzioni benissimo ma ovviamente per noi il tema è quello della sostenibilità cioè tutti gli ecosistemi devono essere sostenibili quindi il nostro impegno per continuare a lavorare con gli eventi diritto con appunto tutto il mondo dell'industria sempre per appunto il tema di sostenibilità aiutando la monetizzazione a crescere il business a crescere e per il beneficio di tutti sicuramente ci sono tante sfide come ha detto Chiara per il futuro però quello che mi piace comunicare è che già soprattutto con YouTube si è fatto molto YouTube è una piattaforma di content management un sistema di content management nel quale ovviamente possono essere gestiti tutti i contenuti stiamo lavorando insieme a YouTube perché venga identificato fino all'ultimo contenuto musicale utilizzato all'interno dei video perché questa è stata un po' la sfida dell'ultimo periodo e lo sarà del presente e del futuro più imminente cioè far sì che tutti i contenuti non solo quelli più facilmente identificabili da un punto di vista musicale vengano identificati grazie al content management system di YouTube e grazie anche alla collaborazione con CIA e con tutte le società di collecting per le quali non vadano a finire in un'area grigia nella quale questi contenuti vengono sostanzialmente non evidenziati e non identificati e secondo me questa è una delle sfide proprio delle prossime settimane dei prossimi mesi o meglio è quello che abbiamo affrontato e abbiamo abbracciato come sfida proprio anche con YouTube da un po' nell'identificare tutte le musiche che vengono utilizzate sulla piattaforma che siano long forms che siano short forms che sia general entertainment che sia musica faccio un esempio perché poi stasera penso sia stasera che si esibiranno i Mineskin insieme a YouTube abbiamo collaborato per identificare dei video dei Mineskin che non erano official videos ma erano delle loro esibizioni di quando erano giovani a piazza di Spagna e erano stati uploadati sulla piattaforma è chiaro che erano dei video molto difficili da identificare anche con un riconoscimento tramite una fingerprinting che riconosca l'audio e ovviamente questi video probabilmente erano da utenti privati erano stati uploadati ancora prima che i Mineskin esplodessero poi ovviamente c'è stato il fenomeno dei Mineskin e questi video hanno ottenuto tantissime visualizzazioni siamo andati a lavorare insieme a YouTube proprio per identificare anche quei video che non sono già nativamente nel radar sia di YouTube e della CI quindi questa è una delle sfide anche per il futuro non solo per i Mineskin che hanno avuto il successo ma per tutti quelli che lo avranno il successo benissimo perfetto io ringrazio Nicola ringrazio Chiara ringrazio tutti voi che siete intervenuti buona giornata e arrivederci presto grazie grazie grazie